Non più solo tribunale per divorziare, si potrà venire davanti al sindaco, l'ufficiale dello Stato civile pagando un semplice diritto di 10 euro le coppie che intenderanno che sono già separate da tre anni e che non hanno a carico figli minorenni o comunque non autosufficienti potranno divorziare semplicemente venendo a fare un'autodichiarazione davanti a me c'è una procedura prevista dalla norma, abbiamo adottato una delibera di giunta comunale come prevedeva la legge quindi da oggi siamo operativi per poter andare incontro eventualmente a queste esigenze dei cittadini chiaramente io auspico che ci siano meno divorzi possibili ma insomma si può oggi farlo davanti al sindaco questa è una norma che arriva dall'altro, che ci arriva dall'altro, una norma dello Stato che impone però che il comune si adegui adottando una delibera specifica visto che c'era questa opportunità e oggi pensando di andare incontro alle esigenze di quei cittadini che non ce li hanno più, quei soldini che magari servono per poter fare una pratica in tribunale oggi lo potranno fare più semplicemente pagando 5 euro a testa e quindi in sostanza è un'agevolazione per i cittadini